L'Atalanta batte 4-1 il Valencia e compie il primo grande passo per il passaggio del turno di Champions League. Era una partita che andava giocata con la testa, col cuore e con le gambe, perché la Champions, ce l'ha insegnato, non è come il campionato, bisogna giocarla in un altro modo, con un'altra intensità, con un'altra logica e devo dire con grande orgoglio che la nostra squadra ha imparato benissimo questo nuovo spartito. Ieri è stata veramente protagonista e in quello scenario ci stava la grande. È una roba che mi riempie di orgoglio e io la voglio dire, la voglio ribadire e la ribadirò finché potrò. Sulla partita in senso stretto io non so quanto voglio dedicarci, perché a parte che l'avrete vista tutti, ma poi risulterei forse anche un po' ridondante. Cosa potrei dire? Potrei dire che l'Atalanta dal punto di vista della qualità tecnica dei giocatori pazzeschi, come un Ilicic che si inventa un gol col piede debole o un Papu Gomez che è ovunque, potrei dire che l'Atalanta ha dal punto di vista atletico, dal punto di vista proprio del gioco, dei giocatori formidabili come Atteborg che corre come un matto, come Pasalic che ha una calamita al posto dei piedi per le seconde palle, o come Caldara, quello rotto, che deve subentrare subito all'inizio della partita, perché Gym City si fa male nel riscaldamento, entra e fa 70 minuti che chissà da quanto non li faceva facendo un partitone. Oppure Gollini che fa un'ottima parata. Siamo forti, questa cosa qua io voglio dirvi e voglio dedicarci il video al fatto che siamo forti. Chi mi segue, chi conosco, chi mi ha incontrato anche ieri, l'avrà sentito, io ero certo della vittoria, ero certo della vittoria almeno ieri, perché qualitativamente secondo me eravamo superiori. Io penso che questo atteggiamento, che non deve essere una mancanza di rispetto, sia il prossimo step che dobbiamo fare, perché forse il nostro essere bergamaschi, il nostro essere persone molto pacate ci spingue forse a sminuirci, perché bisogna, come dice sempre Gasperini, attenzione a non confondere l'umiltà con lo sminuirsi, perché essere umili vuol dire non prendere sotto gamba le cose, sminuirsi vuol dire ritenersi meno di ciò che siamo e noi siamo una squadra forte, perché io ho visto l'Atalanta giocare da grande squadra contro la Juve, contro il Napoli, contro il Borussia Dortmund, contro il Lione, contro il Valencia, anche contro il Manchester City e solo proprio contro il Manchester in una partita l'ho vista proprio soffrire, ma per il resto siamo una grande squadra, abbiamo un ottimo organico, legittime ambizioni, che è giusto perseguire, poi si può perdere, perché si può perdere, ma ciò non toglie il valore della squadra, non dobbiamo disconoscere il valore di questi ragazzi, e se poi i giornali, siccome siamo di Bergamo e non siamo di Milano o di Roma, continuano a dire che sì, siamo una realtà, così, fatti loro, noi dobbiamo avere la consapevolezza che siamo forti, ripetetevelo, siamo forti, e questa roba non ti porta a jella, non è un'offesa agli altri, no, è la consapevolezza che abbiamo una squadra forte, perché io leggo i giornali, leggo le cose, leggo che dei nostri anche, che il Valencia poteva farne almeno due o tre di gol, noi potevamo farne otto, che il Valencia non aveva tanti titolari, ma noi abbiamo Zapata che non è ancora rientrato per niente, Caldara, come ho detto, che non giocava a 70 minuti, quindi insomma non giocava a 70 minuti da chissà quanto, quindi neanche lui era freschissimo, eppure, eppure abbiamo vinto 4 a 1, è il tabellino che parla alla fine, non possiamo commentare un 4 a 1 come se avessimo vinto a carambola 1 a 0, no, abbiamo vinto, abbiamo dominato, ciò non toglie che dobbiamo andare là, con la giusta concentrazione, con la testa, con la consapevolezza di evitare di fare stupidaggini, ma abbiamo vinto 4 a 1 meritatamente, perché gli abbiamo concesso 20 minuti, non è che gli abbiamo concesso chissà che cosa, poi logicamente non sono una squadra di dilettanti il Valencia, ci mancava altro che non ci smettessero in difficoltà, caspita, non si può pretendere tutto, però ai punti, secondo me chiaramente noi ne usciamo vincenti, sia ai punti che poi ovviamente da tabellino, e questa cosa qua io insisto, 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 poi c'è chi dice, e però quel gol su 4 a 1, quel gol ci dà fastidio, che può essere anche un'idea vincente, però mettiamocela in testa, se tu vuoi sempre giocare la palla, un po' subisci, e magari un gol lo prendi anche, l'unico modo per non prendere gol è che la curva nord si faccia un mega striscione in cui scrive Gasperini due punti, quando stai a più 3 puoi anche spazzarla, però tanto secondo me lui non ti dà retta, quindi rassegniamoci anche a questa cosa, sì, ne abbiamo preso uno ma ne abbiamo fatti quattro, io spingo su questa cosa perché è la consapevolezza che io dico sempre, qualcosa di fondamentale, se te non ti metti in testa che sei una grande squadra, che ripeto, non vuol dire affrontare la cosa con superficialità, perdere di concretezza assolutamente, vuol dire consapevolezza dei propri mezzi, non ti porteranno lo stesso rispetto e la stessa idea anche agli altri, e noi ce la stiamo meritando tutta perché stiamo insegnando il calcio, facendo anche un gran spettacolo, scusatemi se il video è così, però sapete che quando si vince bisogna anche un attimino prenderla più ampia. Vi ringrazio come sempre e vi lascio tutti i riferimenti in descrizione e lasciatemi dire una cosa, ieri in tanti mi avete salutato, mi avete fatto i complimenti e tutto, io oggi voglio fare altre persone, a Paolo, a Sigo, a Luciano ed Antonio, che mentre noi eravamo tutti a festeggiare così, loro hanno portato avanti il sito, mettendo tutte le news e facendo un grande lavoro, che è una cosa che magari a volte diamo per scontata, ma il tempo e la passione che queste persone dedicano ad atalantini.com, è giusto che si meriti un riconoscimento perché poi io ci metto la faccia, loro di meno, ma poi il grande lavoro lo fanno loro, quindi da parte mia un ringraziamento per quello che fanno. Vi saluto e mi raccomando continuate a leggere ad atalantini.com. Ciao!